Ciao a tutti ragazzi, oggi come vedete abbiamo un sacco di attrezzatura qua sul nostro tavolo perché vedremo insieme come realizzare un nozaino per un'alta via, vedremo cosa portare e soprattutto come andare a inserirlo all'interno dello zaino per far sì che avremo i carichi ben distribuiti e non ci faranno male alle spalle. Perciò iniziamo e vi darò anche un po' di consigli miei personali da una persona che ha percorso più di una decina di alte vie. Prima di iniziare a inserire tutti gli oggetti all'interno dello zaino ci tengo a fare una premessa. Quello che vi sto per far vedere è l'attrezzatura pensata per un'alta via in tenda quindi senza appoggiarsi ai rifugi per dormire. In quel caso l'attrezzatura sarà decisamente meno ma magari lo vedremo in un altro video. A questo punto iniziamo a riempire il nostro zaino. Prima di tutto dovremo decidere che zaino utilizzare. In questo caso io ho preso un Osprey Atmos AG50 perché è lo zaino con cui l'anno scorso ho fatto l'alta via delle Dolomiti Bellunesi e mi ce l'ho trovato benissimo. Trovate la recensione qua sul canale. Però in generale come zaino per un'alta via fatta in tenda dovete puntare almeno su un 50 litri minimo soprattutto se volete avere dietro anche del cibo. Diciamo che molte volte, soprattutto se l'alta via è lunga e dovete portarvi tanto cibo, si punta anche ai 60 se non oltre. Ma un 45-50 per essere completamente autonomi ce n'è bisogno. Iniziamo dunque a riempire il nostro zaino. Prima di tutto, ancora prima di inserire all'interno qualsiasi oggetto, dobbiamo liberare completamente tutte le fettucce. Quindi le fettucce laterali, le fettucce sopra, sotto, eccetera, le apriamo tutte completamente. Facendo così sarà molto più semplice andare a inserire tutto il materiale all'interno e riusciremo a sfruttare molto meglio tutta la capacità del nostro zaino. Iniziamo a inserire gli oggetti partendo dalla parte inferiore. Quindi io vado ad aprirmi le mie clip. Primo oggetto che vado ad inserire, il sacco a pelo. Per quanto riguarda il sacco a pelo, per un'alta via io vi consiglio di avere uno sacco a pelo tra i 0 e 5 gradi. Quindi dipende naturalmente a che altitudine andiamo, ma di solito le alte vie corrono tra i 2.000 e 2.500 metri di quota, se non oltre. In quel caso lì, anche se siamo in estate, comunque secondo me un 0,5 gradi è una buona idea, perché di notte le temperature possono scendere parecchio. Quindi, prima cosa sicuramente il sacco a pelo. In tanti consigliano di mettere all'interno il sacco a pelo senza l'involucro esterno. Sì e no. Si può fare, non ci sono tante controindicazioni, se non, se avete un sacco a pelo in piuma rischiate di bucarlo e se vi esce la piuma è un casino il sacco a pelo, dovete praticamente buttarlo. Io preferisco tenerlo all'interno del suo scomparto, così che innanzitutto non si bagni se dovessi prendere l'acqua. E soprattutto poi mi è più semplice da tirar fuori, rimettere, diciamo, più facilmente gestibile. Quindi, prima cosa il sacco a pelo. Secondo oggetto che andiamo a inserire è il materassino. In questo caso vi consiglio un materassino con un RT almeno di 2-2,5, soprattutto se lo fate nella stagione estiva. Per quanto riguarda poi un RT maggiore, beh, diciamo che più alto più ci sta, non è un grosso problema un RT alto. Più che altro vi consiglio di utilizzare un materassino sul quale siete sicuri di dormire bene, rende essere comodi, perché dormire male e giorno dopo aver tante ore di cammino non è per nulla bello. Quindi, parte inferiore, andiamo a inserire il nostro materassino. Successivamente nella parte inferiore vi vado a mettere il piumino, cosicché possiamo averlo sempre a portata di mano, perché basta aprire lo scomparto inferiore, e anche la giacca impermeabile. In questo modo, davvero, potremo prendere tutto molto facilmente, perché ci basterà aprire la parte inferiore dello zaino. Ma non solo, perché l'ultima cosa che vado ad inserire nella parte inferiore è il cambio. Magari sposto un attimo lo zaino, vi faccio vedere cosa mi porto come cambio di solito. Naturalmente anche qua dipende dove state andando, a che altitudine state andando, ma per darvi un'idea di massima, io mi porto un paio di calzini di ricambio, una mutanda di ricambio, un pantalone e una maglietta che mi servono per camminare, e poi un pantalone lungo e una maglietta lunga che mi servono per dormire la notte. Il principio è, vabbè, naturalmente partiamo già con una mutanda, un calzino, una maglietta e un pantalone addosso. Il principio è avere qualcosa di caldo per la notte, con il quale poterci scaldare e con il quale poter dormire con un certo comfort, e soprattutto avere un cambio singolo se dovesse piovere. Se facciamo un'altavia in tenda e un giorno piove, sarà difficile che il giorno successivo avremo i vestiti asciutti, quindi bisogna avere almeno minimo un cambio. Poi comunque se la facciamo d'estate, molte volte basta solo avere un pantaloncino e una maglietta con una mutanda e un calzino, e davvero occupano pochissimo spazio. Quindi questo è il minimo indispensabile per poter fare un'altavia in tenda. Come vedete poi utilizzo queste dry bag che non sono altro che delle sacche impermeabili in cui vado ad inserire i vestiti perché voglio che i vestiti siano sempre asciutti e non si devono bagnare per nessun motivo. Pesano poco, sono leggerissime, tornano utili in tantissimi casi, quindi averne una dietro non è mai una cattiva idea. E poi, come vi dicevo, questo lo andiamo ad inserire anche lui nella parte inferiore del nostro zaino. Parte inferiore completata, iniziamo a riempire la sacca principale e come primo oggetto andiamo ad inserire la nostra tenda. Iniziamo ad inserire la nostra tenda in questo punto perché è il punto migliore in cui fare sì che lo zaino poi scarichi il peso bene sulle nostre anche e non sulle spalle. Se andiamo a metterla troppo in basso tenderà lo zaino a tirarci all'indietro e sentiremo male alle spalle. Se la mettiamo invece troppo in alto tenderà lo zaino a sbilanciarci in avanti e quasi a farci cadere. E naturalmente non mettete l'esterno perché c'è il rischio di prendere dentro in qualche ramo, c'è il rischio di fare un casino, quindi la tenda cerchiamo di metterla sempre all'interno. Io la metto come primo oggetto una volta che vado a riempire la tasca superiore proprio perché in questo modo vado a bilanciare per bene tutto il peso dello zaino. Andiamo ad inserire la nostra tenda. A questo punto una volta inserita la tenda se facciamo un trekking col cibo va inserito il cibo. Va inserito il cibo perché comunque è una di quelle cose che pesa tanto, ci sono occasioni in cui magari se stiamo via tanti giorni potremmo avere anche 7-8 kg di cibo. E' una di quelle cose che comunque quando le prendiamo siamo fermi, siamo un attimo di pausa, quindi abbiamo anche tempo magari di liberare un attimo lo zaino. Cibo lo si inserisce appena dopo la tenda. Fatemi sapere se vorreste un video dedicato sul cibo per un'altra via magari da 7 giorni. Cioè un'altra via da 7 giorni in cui dobbiamo mangiare colazione, pranzo e cena. Vi faccio vedere un po' come si progetta il cibo per una settimana. In questo caso io non ho qua nulla ma tenete conto che andrebbe inserito in questo punto. Continuiamo, andiamo a inserire il prossimo oggetto che è il pentolame. Il pentolame ci serve naturalmente per cucinare. Io ho all'interno del mio pentolame un po' di oggetti perché naturalmente dobbiamo sfruttare tutti gli spazi. All'interno io ripongo sempre la bombola. Poi adesso facciamo un discorso sulla bombola, vi do qualche consiglio. Il fornello naturalmente per poter cucinare. Poi le posate. All'interno poi anche un po' di spezie, qualcosa per pulire le pentole. Diciamo che il top sarebbe che tutto il kit cucinia resti all'interno della pentola così non avere nulla in giro. Per quanto riguarda le bombole come vi dicevo vi voglio dare un consiglio. Diciamo che in giro se ne trovano più o meno di due grandezze. Quelle da 200-250 grammi e quelle da 350-400 grammi. Se sapete che vi basta quella piccola portate una piccolina senza tanti problemi. Meno spazio occupa nello zaino, pesa meno. Quindi se avete già testato la vostra attrezzatura e sapete che una piccola basta, va bene. Se invece non sapete cosa portare perché è la prima volta, perché magari avete cambiato un po' il cibo e non sapete se riuscite con una piccola andate su una grossa. Meglio portarsi una bombola bella grossa e nel caso portare una casa a metà piena rispetto che restare senza bombola e dover cucinare da mangiare. Perché in quel caso lì o mangiate freddo o non mangiate affatto. Quindi meglio nel caso avere una bombola più grande, che alla peggio finiamo in qualche escursione dopo la nostra altavia, rispetto che restare senza gas. Ora possiamo inserire anche lui all'interno dello zaino. Successivamente cosa mi porto? Un piccolo astuccio che rimane il mio beauty. All'interno cosa ho? Vabbè, spazzolino, dentifriccio, un tagliaunghie per tagliarsi le unghie. Mi raccomando, importantissimo perché se no poi vi fate male. All'interno tutto quello che può essere magari anche una piccola crema solare o all'interno anche dei cerotti per le vesciche. Un po' di tutto, ecco. Beauty. Qua sta a voi poi sapere di cosa avete bisogno. Un consiglio che voglio darvi, se fate tutta l'altavia in tenda, è quello di portarvi il sapone di Aleppo. È un sapone solido, molto semplice da utilizzare, però naturale, quindi anche se si disperde nell'ambiente ha un impatto minimo e soprattutto è duraturo. Quindi possiamo utilizzarlo anche per una settimana, ma anche oltre, perché dura veramente tanto. Io col sapone di Aleppo davvero mi ci trovo veramente bene. Me l'ha consigliato una naturalista, dicendomi che davvero è quello meno impattante sull'ambiente. Quindi, al di là che deve piacere la saponetta solida, per il resto mi ci trovo veramente bene. Se dovessimo lavarci in giro, perché naturalmente può capitare, meglio avere dietro anche un piccolo panno con il quale asciugarsi. Un panno sicuramente in microfibra, non in cotone, mi raccomando. Il panno non deve essere enorme, basta un panno tranquillamente di 50 cm x 50, 60 cm x 60 cm. Non c'è bisogno di avere dietro un panno enorme come quello di casa. Questo panno può tornare molto comodo, anche se ci dovessimo, ad esempio, bagnare i piedi per asciugarli, se dovessimo asciugare magari le stoviglie. Torna sempre comodo, quindi averlo dietro non è mai una cattiva idea. E anche loro due, naturalmente, vanno a finire all'interno dello zaino. Questi poi, di solito, sono oggetti piccolini, quindi se riusciamo a metterli di lato e sfruttare bene tutti gli spazi, non è una cattiva cosa. Per quanto riguarda, invece, il reparto elettronico. Io di solito mi porto un power bank, la grandezza dipende da quanti giorni dovrò stare via, massimo comunque un 20.000 mAh. Per quanto riguarda la ricarica, mi porto dietro anche un piccolo spinotto da muro con un cavo, perché magari un giorno mi fermo a mangiare in un rifugio e riesco a ricaricare sia il power bank che il telefono, quindi sicuramente un power bank è da avere dietro, quindi anche lui va all'interno dello zaino. A questo punto dovremmo aver riempito quasi tutto il nostro zaino e diciamo che le cose voluminose sono finite. Da qui andiamo avanti un po' su piccoli oggetti che tornano sempre comodo. A iniziare da un kit di primo soccorso. Questo non deve mai, mai, mai mancare. Cerotti, qualcosa per bendarsi, qualcosa per disinfettare. Naturalmente non deve essere enorme, cioè non deve essere un kit di primo soccorso che pesa diversi chili, anche perché quando siamo in giro possiamo medicarci veramente poco. Quello che possiamo fare è veramente, nel caso ci sbucciamo qualche vescica, qualche piccola bruciatura, qualche piccolo taglio. Oltre ci toccherà dover chiamare probabilmente il soccorso alpino, quindi un kit di primo soccorso bisogna averlo, ma non state a diventare matti nell'avere un kit enorme. Questo non lo vado a infilare all'interno dello zaino, ma lo vado a infilare nella tasca anteriore. In questo modo ce l'ho sempre, sempre a portata di mano. In questo caso come tasca anteriore ho solamente questa qua rete, e se doveste avere una tasca anteriore magari chiusa a zip va bene anche quella. Sempre nella tasca superiore vado sempre a infilare il mio secondo strato, quando naturalmente non lo utilizzo. Io preferisco averlo qua nella parte inferiore, semplicemente perché se dovessimo mettere e toglierlo molte volte durante la giornata, averlo qua portato di mano è veramente comodo. A questo punto anche la parte davanti l'abbiamo riempita, andiamo a riempire la parte superiore del cappuccio. Qui di solito si possono avere due tasche. Io nella parte interna, nella tasca interna, di solito vado a riporre un paio di guanti e una torcia. Vado a riporli qua dietro perché li utilizziamo di solito quando siamo fermi la sera. Sicuramente la torcia la sera è basta. I guanti anche lì, io solito li utilizzo la sera se fa particolarmente fresco, possono tornare comodi se magari dobbiamo affrontare qualche tratto con le catene e non vogliamo raffreddarci le mani. Sicuramente sono da avere dietro, sia i guanti che la torcia. Però posso mettere anche nella parte interna del nostro cappuccio, dello zaino, perché comunque non è uno di quegli oggetti che utilizziamo spesso durante il giorno. A questo punto giriamo il nostro cappuccio e nella parte superiore cosa vado a mettere? Vabbè, di solito metto una crema solare un pochino più grossa. Questa, vabbè, 30, 40, 50, fate voi. Di solito porto la 50 perché l'alta quota è la migliore. La metto qua in alto perché va messa sul corpo diverse volte al giorno, quindi qua in alto ci può stare. Occhiali da sole, anche questi indispensabile per l'estate va bene a un grado 3, anche un grado 4, non minore del grado 3 perché sennò rischiate davvero di farvi male agli occhi, quindi anche loro qua nella parte in alto. E poi se le utilizzate magari una cartina. Io personalmente non le utilizzo, preferisco avere le informazioni sul telefono, ma se voi preferite una cartina. Sicuramente dovete avere una mappa da qualche parte, quindi cartina o telefono scegliete voi, ma bisogna averla. Per quanto riguarda il cappuccio, poi qua possiamo inserire tutti i piccoli oggetti che abbiamo con noi, magari delle cuffiette, i pacchetti di fazzoletti, io li metto sempre qua in alto, possiamo metterci un piccolo coltellino, diciamo un po' di oggetti piccolini che magari non sappiamo bene dove mettere. L'importante è che non rendiate il cappuccio più pesante del resto dello zaino, perché sennò torniamo al principio di prima che avendo un cappuccio così pesante, un varicentro che si alza e quindi tenderà a sbilanciarci in avanti lo zaino. Mi raccomando, non andate a riempire troppo il cappuccio, perché è controproducente. Infine, per quanto riguarda il discorso acqua. Allora, qui diventa un po' un problema, visto le ultime annate in cui l'acqua scarseggia sempre di più e dovranno portarci un bel po' di acqua dietro ogni giorno. Io preferisco avere ancora la borraccia, magari anche graduata che mi aiuta anche a cucinare, piuttosto che una vescica. La vescica, beh, personalmente non piace, quindi diciamo che può piacere, può non piacere. L'importante, a mio parere, è che soprattutto d'estate partiate con minimo, minimo, minimo due litri d'acqua al giorno. Se poi dovete cucinare, due litri per voi da bere più i litri che vi servono per cucinare. Quindi magari partirete anche con tre, quattro litri. È veramente importante questo aspetto. Soprattutto è importante sapere anche dove saranno le fonti d'acqua, perché se non lo sappiamo rischiamo davvero di restare senza acqua e quello è peggio che restare senza cibo. Quindi, se abbiamo una vescica, ok, riempiamo quella. L'importante è avere il litraggio. Io invece preferisco utilizzare la borraccia, come vi dicevo, graduata, più delle soft flask da trail running. Queste qua sono piccoline, leggerissime, tengono mezzo litro all'uno, posso riempirle, inserirele all'interno dello zaino quando sono piene. Va un po' a preferenza. Però davvero, mi raccomando, non elemosinate mai sull'acqua. Per ultimo, ma non per importanza, i bastoncini. Mi raccomando, portatevi dietro, utilizzateli. Se non sapete come utilizzarli, ho fatto un video a riguardo. Davvero, soprattutto con un carico così grosso come può essere uno zaino da alta via, servono per aiutarci sia a progredire in avanti, che in discesa per non farci male alle ginocchia, che per stabilizzarci magari su qualche punto un po' di traverso, eccetera. Quindi, con uno zaino così grosso, aiutano davvero parecchio. Detto ciò, ragazzi, abbiamo fatto il nostro zaino. Questo è proprio il minimo indispensabile che va portato per un'alta via fatta in tenda. Da qua potete aggiungere qualcos'altro, se magari volete portarvi un cusciglino, se volete portarvi un qualcosa in più. Mi raccomando, però, non esagerate mai, perché tutto quello che mettete qua dentro dovete portarvelo sulle vostre spalle. E chili in più davvero possono far la differenza tutti i giorni. Per quanto riguarda poi un peso che dovremmo prendere come parametro, sono gli 8 chili. Quindi, senza acqua e senza cibo, tutta la nostra attrezzatura, quindi tutto quello che abbiamo all'interno dello zaino, e lo zaino non deve superare gli 8 chili. Da qua poi, come vi dicevo, se abbiamo tanto cibo potremmo avere anche 5-6 chili di cibo, magari altri 2 chili d'acqua. Dipende molto da caso a caso, da alta via ad alta via. Però io mi orienterei sugli 8 chili massimo proprio per tutta l'attrezzatura. Se sporate addirittura i 10, gli è meglio che fate un pensierino su quello che vi state portando e cerchiate o di eliminare il superfluo oppure magari di prendervi dell'attrezzatura un pochino meno pesante. In conclusione, ragazzi, io nella speranza di avervi aiutato a fare il vostro zaino per la prossima alta via, vi ringrazio per aver guardato questo video. Aspetto qua sotto i vostri commenti su cosa avreste portato di più o di meno rispetto a quanto abbiamo visto nel video e nella speranza sia stato esaurimento e esaustivo anche per questo tutorial. Vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!